insieme adesso essere su tv com'è passato la pasqua cago beppe marconi al mare sono stati giornali isola d'elba abbastanza bene il tempo non è che stava eccezionale due tre giorni sì ma due tre giorni no poi lo freddo è veramente freddo comunque siamo stati in pace tranquilli cosa che ci voleva per mentre te l'isola d'elba qui nel frattempo hanno cambiato tre quattro progetti su via fiorentina come l'ultima volta il sindaco ce ne ha detto uno ora ci ha cambiato un'altra volta prima sotto passo poi sulla rotatoria e ora nuovo sottopasso a mamma mia ce l'ha detto il vice sindaco gamurrini vieni a sentire cosa ci ha detto quando è venuto in studio da noi a nego su bianco ecco il progetto dice stavolta veramente definitivo ok speri ascoltiamo verrà realizzata una rotatoria a raso con un sottopassaggio con due corsi di marcia per ogni per ogni senso di marcia che passano sotto alla tangenziale urbana questa via la soluzione definitiva il sindaco ora ne ha il corrente però inizialmente sembrava che dovessimo mantenere il semaforo a livello strada perché era più dava meno problemi dal punto di vista delle svolte in sinistra quindi hai capito sparisce il semaforo si passa sotto due corsie per senso di marcia beh come era il progetto iniziale ti piace però ha detto che sparisce il semaforo del tutto mentre prima nel progetto vecchio c'era ancora il semaforo certo che ci piace ci piace veramente e snellirà soprattutto il traffico qui però ci sono alcune problematiche sicuramente che io spero che le abbiano imprese in considerazione ora in questo momento qui non si verificano queste problematiche che ti dirò però in effetti sono molto molto importanti perché cosa fanno? bloccano in questo momento il semaforo e domani bloccheranno la rotatoria mentre oggi il semaforo sicuramente fa da filtro e quindi le persone intelligenti si fermano se si gira l'operatore lo vede qual è un problema no ormai è tardi una canzone Masco Cossini e quindi ora il semaforo riesce a fermare un po' di fusto di traffico perché colui che viene intelligentemente si vede che dalla parte di qua la strada è completamente ostruita dalle macchine aspetta ad invadere l'incrocio un domani essendo una rotatoria succederà che succede nella rotatoria Sette Punti dove quando è chiuso il passaggio a livello per il passaggio di treni a certe ore la fila delle auto invade la rotatoria e crea le problematiche e quelli che sono sul raccordo potrebbero attraversare la rotatoria stessa però dice che hanno studiato i flussi esatto però magari ricordiamo di qualcosina che con il flusso non siamo direttamente interessati ma possono interessarlo sicuramente quindi si risolvono dei problemi dici te ma se ne potrebbero creare degli altri ma si creano anche ora però penso misura minore con la rotatoria magari se ne creeranno un po' di più allora siccome iniziamo a vedere quali sono le problematiche che sono in questo punto sono soprattutto sul lato che è Frentina che si entra in città perché il primo problema di cui possiamo parlare sono i due innesti che sono sull'incrocio come vedi chi viene oggi dalle due strade da via Potagora comunque si deve girare solamente in destra e questo è un male minore ma dalla parte opposta è importante perché ti esce da quella stradina lì dove sono poche case generalmente attraversa qui davanti non è che va in destra e va verso il casentino ma cerca di entrare al semaforo e magari cerca di girare a sinistra anche verso via Veneto e via Romana e quindi ostruisce il passaggio questo sicuramente sarà un problema che verrà evitato dalla rotatoria perché entrando direttamente in rotatoria provano evitare di fare tutte queste problematiche quindi questo sarà un problema che verrà risolto abbastanza agevolmente ma comunque c'è e devono considerare anche questo innesto e chissà se l'avranno considerato comunque magari torneremo a chiedere alla fine se è questa la penso di sì l'ultimo scenario e quindi magari ne riparleremo va bene ciao